Ciao, ti è mai successo che mentre stai leggendo un libro ti accorgi che quel libro aggiungerà un gran valore alla tua vita? Beh, a me è successo diverse volte e adesso vorrei farti vedere alcuni di questi libri che hanno inciso profondamente nella mia vita e nella mia formazione musicale. Recentemente ho avuto qualche problema fisico, cosa che succede a tutti facilmente, ma questa serie di problemi fisici mi ha portato a fare una ricerca per quanto riguarda il comportamento del corpo di un musicista e allora ho cominciato a googlare diverse parole in italiano, in inglese, tipo allenamento per i musicisti, preparazione fisica, il corpo del musicista, il dottore del musicista e a un certo punto mi sono imbattuto in un italiano che ha scritto un libro dedicato ai musicisti. Questo dottore italiano si chiama Marco Brazzo e ha scritto questo libro. In questo libro il dottor Brazzo ci spiega che il musicista è un atleta e in quanto tale si deve allenare come un atleta. Lascia che ti legga almeno un piccolo passo del libro, giusto per farti capire di che cosa tratta. Vado proprio alla prefazione. Il dottor Brazzo ci spiega che lui è uno studioso di fisiologia e biologia dell'organismo umano. Ha capito che l'igiene motoria e alimentare è molto importante per le persone, qualunque tipo di persona e ha scoperto qualcosa di interessante sui musicisti. Infatti dice, allo stesso modo mi sono appassionato alla musica e ho sempre avuto una sorta di venerazione per gli artisti che la compongono e la eseguono. Mi sono chiesto come mai numerosi musicisti, nonostante una molle notevole di studio, non raggiungono la prestazione desiderata e alcuni sono costretti ad interrompere o addirittura abbandonare l'attività a causa di patologie invalidanti. Mi sono stupito perché pochi musicisti si prendono cura del proprio strumento primario, il corpo. Si preoccupano unicamente di accordare lo strumento musicale e si scordano il corpo. Come si può suonare con lo strumento intonato e il corpo stonato? Ho voluto mettere a frutto la mia esperienza di preparatore atletico, kinesiologo e osteopata per aiutare questi artisti. Ho lavorato così su due ipotesi. La prima era che, con un allenamento psicofisico specifico, il musicista poteva suonare meglio e aumentare la propria longevità artistica. La seconda era che, grazie a questo specifico allenamento, si potevano prevenire le cosiddette patologie professionali. Quindi, se anche tu hai qualche problema fisico, non so, le cose classiche dei musicisti sono tendiniti, sono problemi alla schiena, la cervicale, epicondiliti, disturbi alimentari, problemi di respirazione. Insomma, qua dentro ce ne sono spiegate tante di cose. Il dottor Brazzo, in questo libro, ci spiega come reagisce il cervello a stimoli che provengono dall'esterno, provocando azioni dall'interno verso l'esterno. Posso solo dirti che io l'ho incontrato di persona perché ho voluto che lui cominciasse a fare uno studio approfondito sul mio corpo, sulle condizioni del mio corpo, per fare una fotografia della mia situazione di batterista e di uomo, in modo tale da poter compilare una scheda personalizzata su di me. Quindi io e il dottor Brazzo abbiamo iniziato una collaborazione. Resta connesso con me e vedrai quello che faremo anche per te. In ogni caso, se tu hai questo tipo di problemi, semplicemente contattalo, procurati il libro attraverso il suo sito, leggilo, studialo e poi decidi che cosa fare. La salute è troppo importante nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto per un musicista. Senza la salute, la tua performance, il tuo insegnamento, il tuo studio, il tuo allenamento, la tua preparazione per i concerti, verrà tutto vanificato se non stai bene, perché se non stai bene col corpo non starei bene nemmeno con la mente e viceversa anche. Quindi dedica un po' di tempo al tuo corpo e comincia a studiare leggendo questo tipo di libri. Ovviamente non essendo un romanzo e un manuale puoi leggerlo, rileggerlo, prendere appunti come faccio io, vedi, io prendo appunti su le cose che mi interessano in modo che io possa tornarci. Insomma, usalo come un manuale. Ci sono tantissimi esercizi di stretching, di potenziamento, allenamento aerobico, anaerobico. È tutto spiegato qua e in ogni caso puoi sempre contattarlo perché è italiano, vive in Italia e quindi con la tecnologia di oggi siamo molto più vicini e connessi. E comincia a pensare che questo tipo di atteggiamento potrebbe fare la differenza fra te, che sarai allenato e preparato, e una persona che magari ha studiato tanto ma è giù di allenamento e quindi la performance è proprio giù, non recupera bene, non riesce a muoversi bene, va subito in stress per problemi che in realtà sono troppo piccoli per compromettere la tua carriera o la tua efficienza musicale. Ci vediamo al prossimo video con gli altri due libri che hai visto nella foto dell'inizio. Ciao da Ruggero!